Nuovo motivo di soddisfazione per l'autorità portuale dello stretto è giunta in questi giorni dalla pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia, delle Finanze e della Classifica delle pubbliche amministrazioni più efficienti nei pagamenti. Fra tutte le autorità portuali italiane, quella dello stretto infatti risulta essere al quarto posto relativamente ai tempi medi di pagamento delle fatture, dimostrando così grande tempestività nell'espletamento delle procedure e capacità di rispondere prontamente alle imprese fornitrici di beni e servizi all'ente, con un'iniezione notevole di denaro nel circuito della sfittica economia locale. Tutto ciò nonostante una dotazione organica di molto sottodimensionata rispetto alle altre autorità di sistema, che grazie alla riforma hanno potuto ampliare molto negli anni il numero dei propri dipendenti, ha dichiarato il commissario straordinario. Il carico di lavoro, cresciuto per nuove competenze e procedure, è rimasto da noi in carico alle 28 unità, che ormai da anni seguono i tre porti. Poche unità a portare avanti, insomma, tutti i nuovi progetti strategici che l'ente continua a programmare, a beneficio non solo del settore marittimo e portuale, ma di tutto il territorio. Un orgoglio, dunque, è la buona notizia che ripaga l'impegno di tutti i collaboratori e si affianca agli altri importanti risultati registrati nelle ultime settimane. L'incremento del 20% dei croceristi in transito e la crescente attenzione delle compagnie croceristiche anche per il porto di Messina.